Noi non abbiamo invitato assolutamente Bersani a ballare con noi, mi sembra che se c'è un abbraccio mortale che stia girando è proprio quello di Bersani e Company e lo vediamo proprio da quest'analisi qua. Per cui, se questo è, io vedo che continuano a fare una mostra proprio di una superiorità morale, una superiorità, un'arroganza che è quella che stanno pagando con il risultato delle elezioni. Non è così che si viene incontro agli italiani, non è così. E quindi, la regione più lenta a pagare della pubblica amministrazione, la regione che paga più lentamente è proprio la Puglia del virtuoso amministratore Vendola, di tutta Italia. Beh, c'errà altri difetti. Va bene. Facciamo in modo.